Siamo a pranzo, siamo al doppio zero. Stiamo staporando del salame piomontese. Ci hanno portato il tagliere, dei formaggi, delle focaccine e poi abbiamo questa birra spettacolare che sta colorando tutta la situazione in un modo direi ottimale. Siamo in un momento scopi di tagliere. C'è un paolo che sono in un paolo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.